Eccoci qui, buongiorno amici followers, bentornati sul canale, bentornati a un nuovo episodio di Caccia sui mercati, la serie dove sono io a segnalare le occasioni che in questo momento vedo sul mercato. Prima di iniziare vi ricordo come sempre che questi non sono consigli finanziari, che non sono consigli di investimento, ma è intrattenimento e voi potete prendere spunto dalle informazioni che offro in questi contenuti per fare le vostre valutazioni e poi eventualmente fare un investimento ma solo ed esclusivamente che rispetti le vostre regole di money management e i vostri criteri di rischio. Detto ciò, prima di iniziare un bel like di supporto, iscrivervi al canale e fatemi sapere anche cosa ne pensate di tutto quello che andremo a vedere e ad analizzare nel video di oggi. Detto ciò, eccoci qua, partiamo subito i tre strumenti che segnalo oggi sono Australia 200, uno dei miei pupilli che ha preso il videocorso Taurus lo sa, questo è uno degli indici che tradiamo di più all'interno del percorso Taurus. Poi dopo Airbnb e Natural Gas, quindi parto subito e iniziamo ad analizzare, a spiegarvi dove e perché vedo delle potenziali occasioni. Partiamo dall'Australia 200, che è un indice molto value, un indice che all'interno contiene principalmente settore bancario e settore minerario, quindi due indici molto value. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'Australia 200 è un indice che nel lungo termine tende ad avere una certa lateralità, non tende ad avere dell'esplosione a rialzo del prezzo. Infatti se lo guardiamo nel lungo termine vediamo che sicuramente non è un indice dove cerchi delle operazioni di lungo termine a rialzo, quanto cerchi delle operazioni speculative. Ed è proprio per questo che è uno dei miei principali strumenti all'interno del videocorso Taurus. Comunque quello che noto in questo momento è che ha formato un doppio massimo in area 7.900 e ora sta scendendo. Sta scendendo e secondo me questa discesa può essere sfruttata con una tripla entrata. Tripla entrata di che tipo signori? Beh signori, io noto che sicuramente il supporto principale, quello che regge tutta la struttura, è quest'area qui in area 7.600. Questo è molto molto importante perché aveva fatto da resistenza più volte nel passato ed è stata rotta a rialzo. Cos'altro noto? Noto che però ultimamente ha fatto uno spike anche un po' più deciso con le ultime candele, in particolare queste, in area 7.500. Allora anche in area 7.500 metto un altro ingresso. E un primo ingresso per sfruttare la situazione attuale e un primo ribasso che potrebbe portare a un potenziale impulso è l'area dei 7.700. Quindi signori, vado a tradare con una struttura multientrata, sfruttando la lateralità dell'indice australiano e sfruttando anche le sue caratteristiche intrinseche che gli permettono poi dopo di avere questa lateralità, vado a creare un triplo ingresso 7.700, 7.600, 7.476, questo lo tiro leggermente sopra, 7.500 praticamente, 7.700, 7.600, 7.500 per un ingresso long. E quindi compro in tutti e tre i livelli, metto un bello stop loss in area 7.400 e 42 e questa è la mia operazione su Australia 200, primo target 7.900, quindi 7.700, target 7.900. Se dovesse scendere il mio target rimane sempre e comunque 7.900. Chi volesse potrebbe aggiungere una quarta entrata in area 7.400, quindi può valutare un ingresso anche così per rimanere un po' più tranquillo e dare un po' più di respiro all'operazione. Personalmente però mi affiderò come ultimo livello ai 7.500. Questa è la prima operazione che faccio, è la prima occasione che in questo momento vedo sul mercato, cos'altro vedo sul mercato in questo momento? Airbnb. Airbnb secondo me in questo momento è una bella occasione sul fronte azionario. Piattaforma online per affetti brevi, questo è quello di cui si occupa Airbnb, è praticamente un intermediario che permette a chi ha magari un appartamento di poterlo affittare per breve periodi e chi magari vuole fare una vacanza. Questo è più o meno come funziona Airbnb, alcune persone ci hanno aperto un vero e proprio business grazie ad Airbnb. Detto ciò, partiamo e andiamo a vedere perché dico che è in questo momento secondo me un'occasione. Allora, in parte che siamo sotto dai massimi registrati, nel momento in cui poi Airbnb si è quotato, siamo sotto dai massimi di un 35%, ma dai massimi registrati qualche tempo fa, cioè dei 170, chiamiamoli massimi relativi, siamo sotto di un 17% in questo momento. E mi chiedo se questo ribasso può essere effettivamente un'occasione e come faccio a capire se questo ribasso può essere un'occasione di acquisto mi affido ai bilanci. Allora, capitalizzazione di mercato, ci siamo, rapporto PE, ci siamo alla grande. Andiamo a vedere un po' il report. Cosa noto? Noto che il Q1 2024, aspettate che guardo se si vede bene, sì, si vede. Allora, il Q1 2024 ha battuto il Q4 2023, vabbè che era stata una tragedia il Q4 2023. Però la cosa che noto, la principale, è che il Q1 2024 ha battuto il Q1 2023. Questa è la prima cosa che mi salta all'occhio. Ha fatto il doppio dell'utile netto rispetto al Q1 2023. Ricordo che le aziende hanno delle fasi durante l'anno. Non tutte le trimestrali possono essere paragonate rispetto alla precedente. Perché ci sono dei momenti in cui magari un'azienda va meglio. Ad esempio, a Airbnb, possiamo vedere che il Q3 è un trimestre che va molto bene. Ma perché? Perché c'è l'estate in mezzo e la gente va in vacanza. E quindi, chiaramente, i risultati migliorano. Mentre noto che il Q1 2024, in questo momento, ha battuto il Q1 2023. Segnale, secondo me, molto, molto positivo. E se vado a vedere Airbnb anno su anno, posso vedere che il 2023 ha battuto il 2022. Quindi ci sono tutte le condizioni di una crescita reale, a livello di utili, di fatturati, per quanto riguarda l'azienda. E secondo me, un'operazione in questo momento diventa, quindi, interessante. Ero un po' titubante prima dell'uscita di questa trimestrale, perché il Q4 2023 era uscito negativo. E quindi, avevo detto, forse è meglio aspettare, forse rimanere un attimo alla finestra. Beh, il Q1 2024 mi ha dato una conferma. Una conferma della crescita di Airbnb, del suo potenziale, del potenziale che ha l'azienda per il futuro. Di conseguenza, sono molto interessato a fare una operazione, prima dei livelli più bassi, prima dell'ultima trimestrale. Grazie all'ultima trimestrale, mi permetto di alzare i livelli. In particolare, dove sto valutando di entrare su Airbnb? Beh, primo ingresso, signori, l'area dei 140 mi sembra già un ingresso abbastanza interessante in questo momento, perché non voglio rischiare di perdere questa occasione. Poi, come mi riposiziono? Beh, l'area dei 131, 130, anche questa, area molto interessante. Qua possiamo vedere come ha funzionato in questo momento, ma poi anche nel passato, se andiamo indietro. Questo lo tiro un attimo indietro, così faccio vedere. Supporto importantissimo. Quindi 140, 130 sicuramente sono ingressi interessanti e poi dopo continuo ad accumulare ancora sotto in area 120. Quindi questa è, secondo me, un'ottima operazione per Airbnb. Si può pensare di mettere stop loss sotto i 112. Quindi questa è l'operazione che mi piace su Airbnb perché sfrutto la situazione dell'azienda, cioè la crescita dell'azienda anno su anno, sfrutto la sua situazione di utili crescenti, sfrutto anche questo impulso ribassista non tanto giustificato, a mio parere, dalla trimestrale uscita. E quindi questa è l'operazione che penso di fare su Airbnb, chiaramente con fini speculativi. I miei target sono primo target 170, secondo target 180 e poi, chi volesse essere un po' più ambizioso, secondo me anche i 190 per il lungo termine non sono impossibili da raggiungere. Titolo che mi piace veramente tanto in questo momento. Poi andiamo oltre e andiamo a parlare di Natural Gas. Apro una piccola parentesi sul Natural Gas. È uno strumento non facile da tradare, bisogna conoscere il mercato dei futures, bisogna conoscere le strutture. Quindi l'operazione che sto per segnalare diventa un'operazione in questo momento, secondo me, non banale, non adatta a tutti. Comunque la segnalo. Allora, cosa vediamo in questo momento? Quello che vi sto facendo vedere adesso è il futures Natural Gas luglio 2024. Vuol dire che scade entro, prima di luglio, infatti scade il 26 giugno 2024. Ed è il futures che stiamo negoziando adesso. C'è stato almeno sul mio broker il rollover c'è stato ieri, su altri broker ci potrebbe essere nei prossimi giorni. Comunque il contratto effettivo scade il 29 maggio. Quindi il 29 maggio tutti avranno fatto il rollover tra il contratto di giugno e quello di luglio. Detto ciò, cosa noto? Noto che il Natural Gas, qui sto facendo vedere il futures continuo, cioè un grafico che mette insieme tutti i vari futures. Contando il rollover, è il grafico che poi voi vedete sul vostro broker. Comunque, cosa noto? Noto che, basandoci sul futures, chiamiamolo così, continuo, sul contratto continuo, possiamo vedere che in questo momento il prezzo sta a 2,6 e 16. Ma in realtà, questo grafico sarà effettivamente aggiornato il 29 di maggio, perché verrà portato al prezzo del futures successivo. Quindi si vedrà qui un gap, un gap dovuto non a movimenti di mercato, ma quanto al futures. E il prezzo aprirà, signori, in questa zona, 2,8 e 68, c'è proprio scritto qui, no? Quindi io so che in questo momento il prezzo del Natural Gas, per quanto riguarda il futures, è in questa data 2,8 e 68. Quindi più o meno questo puntino qui, me lo devo immaginare qui, in questo momento il prezzo, perché è questo contratto, no? E fin qua, spero di essere stato chiaro. Ora, cosa noto? Noto che, se vado a prendere le scorte di Natural Gas, quanto Natural Gas c'è? Quanta è l'offerta di Natural Gas? Alta, sempre alta, sopra i massimi dei 5 anni, molto sopra la media 5 anni, linea grigia, ma molto sopra anche i massimi dei 5 anni, abbastanza sopra. Sto leggermente rientrando negli ultimi giorni. Comunque siamo sopra, cioè l'offerta è molto superiore. Come è messa la domanda di Natural Gas in questo momento? La domanda, guardando sul fronte europeo, possiamo vedere come. Cioè, i magazzini europei sono pieni di gas al 67%, cioè vuol dire che sono belli imballati di gas. Per essere a maggio, contando che l'inverno arriva a novembre-dicembre, qua siamo belli pieni, siamo belli carichi. Siamo già al 67% in Europa, pieni di Natural Gas. Questo secondo me è un dato interessante. Quindi, offerta tanta domanda sul fronte europeo, non tantissimo. Sul fronte asiatico c'è stata una domanda importante per un discorso di caldo dei condizionatori in Asia, perché c'è stata un'ondata di caldo pazzesca, e questo ha portato tanta spinta, secondo me quasi uno short squeezy, possiamo chiamarlo così, sul Natural Gas. Una piccola bolla, e secondo me si può sfruttare questa piccola bolla con uno short. Perché l'anno scorso di Natural Gas, se andiamo a vedere, ce n'era, eravamo praticamente vicini alla media 5 anni. In questo momento siamo molto lontani. Ma cosa noto ancora di più? Noto che il prezzo, se vado a prendere l'anno scorso, il giorno del rollover, quindi il 26 maggio, simulando di andare avanti proprio di qualche giorno, cioè che noi simuliamo di essere al giorno del rollover, il prezzo del Natural Gas stava a 2,412. In questo momento, che abbiamo molto più Natural Gas, il prezzo sta a 2,848. C'è una divergenza, signori, tra l'offerta di Natural Gas che c'è, e lasciando stare anche la domanda, che facciamo finta sia la stessa, perché non riesco a vedere la domanda dell'anno scorso, quando erano pieni i magazzini europei l'anno scorso, ma, guardando solo ed esclusivamente, questa linea qua la voglio fare bella grossa, aspettate che la faccio bella, ecco qua, guardando nello stesso momento, a parità di tempo, c'è una divergenza, no? Solo che in questo momento abbiamo molta più offerta di Natural Gas, e quindi secondo me questo 2,858, 2,862 in questo momento, insomma quello che sta segnando in questo momento questo contratto, può essere un'occasione short, un'occasione short che viene addirittura ancora di più, quindi questo è quello che volevo fare vedere, cioè la divergenza tra offerta, se ci pensiamo, cioè guardiamo questo grafico, e effettivamente il prezzo, no? Tra offerta e prezzo. Se andiamo da un punto di vista stagionale, vi faccio vedere come stagionalmente, adesso ci si aspetta una sessantina di giorni stagionalmente laterali, no? Più o meno avremo un paio di mesi laterali, qua ci sono tutti i grafici stagionali anno per anno, questo li riassume, li va tutti a mettere in uno degli ultimi dieci anni, e vediamo come ora tendenzialmente la stagionalità non conta, perché siamo in una fase laterale, quindi la stagionalità si annulla, la domanda per quanto riguarda il fronte europeo non è altissima, l'offerta invece è alta e c'è una divergenza, una divergenza che secondo me si può sfruttare, ora andiamo al futures attuale, per un'operazione short, mi raccomando un'operazione short con stop loss, infatti si mette uno stop loss in area 3,181. Primo ingresso, io l'ho già fatto questa mattina, poi dopo ho un segnale tecnico, ho avuto un segnale tecnico importante, quindi primo ingresso l'ho già fatto questa mattina in area 2,9 e 26, ora il prezzo è già sceso, secondo me anche il prezzo attuale 2,8 e 50, 2,9 è buono per un primo ingresso, secondo ingresso, immaginando che il primo ingresso, adesso lasciamo perdere come lo che ho fatto io, immaginiamo un primo ingresso in area 2,9, e lo segniamo in rosso, perché è uno short, quindi questo lo mettiamo in nero lo stop loss, quindi primo ingresso 2,9, secondo ingresso 3, terzo ingresso 300, qua si può secondo me fare un'operazione triplo ingresso short, mi raccomando lo stop loss, perché qui se va in bolla, se c'è uno short squeeze, qua parte su e non si sa dove va, però secondo me può essere una bella occasione, triplo ingresso così, come target almeno l'area dei 2,6, quindi secondo me di margine, effettivamente per questa operazione ce n'è. per andare un po' a chiudere quel grosso gap, quella grossa divergenza che c'è tra l'offerta e i prezzi di Natural Gas, quindi secondo me c'è un 10% di potenziale target come profitti, 2,5, secondo target, forse un po' più ambizioso, forse neanche raggiungibile, ma che non si sa mai, l'area dei 2,4, questa è l'operazione secondo me interessante su Natural Gas, operazione chiaramente con un'ottica di 60 giorni, i prossimi rollover non c'è contango, non c'è backwardation, sono praticamente uguali, c'è una trentina di punti. Detto ciò, per quanto riguarda le mie analisi di oggi e le mie operazioni, le occasioni che ho visto in questo momento sul mercato, è tutto, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate delle analisi fatte e un vostro parere. Mi raccomando, ricordo come sempre, di investire con la vostra testa e secondo le vostre regole di rischio e di money management. Se il video vi è piaciuto, nuovamente un bel like di supporto e noi ci vediamo per i prossimi video, sempre qui sul canale.